Fori imperiali una domanda al sindaco di Roma Ignazio Marino, quali gli obiettivi di un progetto che parte il 3 agosto con la chiusura al traffico privato? Alcuni ne hanno parlato come di un progetto di semafori e di sensi unici, credo invece che sarà il più grande progetto di questo decennio, un progetto che mira a trasformare una strada ad alta percorrenza con oltre mille veicoli privati ogni ora in una passeggiata nella storia, una passeggiata per le romane, per i romani, per gli italiani, per le persone che vengono a Roma da ogni parte del mondo. Il Colosseo per troppo tempo è stato ridotto a una rotonda, a uno spartitraffico. Restituiamolo a Roma, restituiamolo alla storia. Grazie a tutti.